La USLA numero 10 investe su strumentazioni di ultima generazione al fine di migliorare ancor più il servizio rivolto all'utenza. È un nuovo lettino preso da alcuni mesi, ecco che viene direttamente dal Giappone. Può essere utilizzato soprattutto nelle gravi situazioni di emergenza ostetrica in quanto può consentire di essere trasformato in tempi rapidissimi dal lettino da sala parto in un lettino da sala operatoria e quindi poter eseguire un cesario immediatamente nel giro di qualche minuto quindi poter estrarre il feto molto rapidamente. Le dimensioni molto ampie del materasso permette sia la posizione carponi sia la posizione laterale, tutte posizioni che ci permettono l'esecuzione di un parto attivo quindi con il libero movimento della paziente. L'ampia dimensione del materasso, inoltre l'elemento aggiuntivo laterale permette il posizionamento del bambino dopo la nascita accanto alla madre oltre a permettere le spinte materne attraverso il maniglione. Ostetricia ginecologia avrà dunque due ecografi in 3D e un lettino per il parto modulabile. Stiamo vedendo in 3D o in 4D il piccolo e il feto della signora. L'utilizzo di queste macchine è innanzitutto per il 2D che ci permette di ottenere delle ecografie di elevata qualità e questo per la sicurezza non solo della paziente ma anche dell'operatore stesso che lavora con una certa tranquillità anche. La modalità 3D e 4D ci dà quell'input in più per ottenere una qualità migliore delle immagini in alcune patologie dove è strettamente necessario. Con questi nuovi acquisti, questi due nuovi ecografi di ultimissima generazione e il nuovo lettino per i parti in emergenza fanno di questo reparto uno adesso dei più moderni dal punto di vista tecnologico a livello veneto ma anche a livello nazionale. Quindi gli strumenti ci sono tutti, il numero dei parti sta aumentando questo bisogna dare atto alla professionalità del primario di tutti i suoi collaboratori delle ostetriche di questo reparto quindi siamo in fase di miglioramento e oggi con queste nuove strumentazioni le nostre mamme possono partorire sempre più in sicurezza.